Promosso dall'assessorato ai beni comuni del Comune di Napoli, democrazia partecipativa, il primo assessorato che è così denominato, parte appunto a Piscinola, oggi, il Laboratorio Napoli. Il Laboratorio Napoli per la nascita, per la costituzione di una consulta permanente sui beni comuni. L'idea è quella appunto, una volta per tutte, di uscire da una democrazia solo e unicamente rappresentativa di una democrazia solamente fondata sul concetto della delega, ma invece su un rapporto virtuoso tra la democrazia delle rappresentanze e la democrazia della partecipazione. I cittadini devono essere messi in grado realmente, effettivamente, di poter partecipare alla determinazione e all'attuazione delle politiche pubbliche e locali. Possiamo continuare ad andare avanti con la logica della mistificazione della partecipazione. La partecipazione deve diventare diritto alla partecipazione dei cittadini, dei comitati, delle associazioni, delle reti, dei movimenti. Ecco, tutto ciò nasce oggi a Napoli, tutta l'Italia e non solo l'Italia, ma l'Europa ci guarda, guarda questo esperimento, questo esperimento Laboratorio Napoli, Assemblea del Popolo, consulte, tavoli tematici e il rapporto poi con le istituzioni, quindi col Comune, con l'assessorato e con i singoli assessorati per poi ritornare in Assemblea del Popolo, in Assemblea plenaria al fine di verificare e controllare che effettivamente ci sia stato un grado di incidenza sulle politiche pubbliche e locali. Ma è uno dei primi passi, già ne abbiamo avuti altri anche a Palazzo San Giacomo, oggi sarà uno dei tanti passi per avvicinare la cittadinanza a Palazzo San Giacomo e avvicinare noi alla cittadinanza, ridurre le distanze, sarà un metodo di governo, decidere insieme, poi ovviamente l'amministrazione si assume le responsabilità delle scelte, ma cerchiamo di condividere e di confrontarci sempre. Ecco, che partecipazione si aspetta dai cittadini? Ma è enorme, basta vedere la sala di oggi, ma è una partecipazione costante, basta vedere il numero enorme di mail e di lettere che riceviamo di cittadini e cittadini, fondazioni e associazioni che vogliono partecipare alla raccolta differenziata, vogliono contribuire al governo della città, questa è la vera rivoluzione partenopea delle elezioni amministrative delle settimane scorse, cioè una grande voglia della città di partecipare al governo della città. Democrazia partecipata significa questo, significa trasformare la mistificazione della partecipazione, perché noi da vent'anni sentiamo parlare di partecipazione, ma la mistificazione della partecipazione significa non trasformare la partecipazione in diritto alla partecipazione, diritto alla partecipazione significa dare la possibilità concreta a forme più o meno organizzate, più o meno strutturate, e quindi io parto dalle reti, dei comitati, dei movimenti, fino ad arrivare alle associazioni, ma anche a tutte quelle realtà, quelle dimensioni partecipative che non hanno uno statuto, che non lo vogliono uno statuto, che non hanno un atto costitutivo, che non vogliono un atto costitutivo, ma perché esprimono invece soggettività politiche forti, a volte e spesso nel nostro territorio non solo una soggettività politica, lasciatelo dire, più forte delle stesse istituzioni politiche. Grazie.